Un viaggio da nord a sud per raccontare la storia dei protagonisti italiani dell'ortofrutta, aziende che affondano le proprie radici nella tradizione familiare e hanno saputo innovare e crescere. È il viaggio intrapreso dal giornalista economico Roberto Fabian, raccontato nel libro Protagonisti italiani dell'ortofrutta, edito da Lumi di Ferrara con la prefazione di Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Europea Agricoltura. Nel libro dieci aziende del settore raccontano la loro storia, i loro prodotti e deliriano le strategie per il futuro. Ho voluto con questo libro Protagonisti italiani dell'ortofrutta dare voce a dieci tra aziende attive nel comparto dell'ortofrutta e organizzazioni di produttori attive nel settore in Italia, da nord a sud alle isole. Dare voce perché? Perché queste sono delle realtà esemplari, delle realtà di eccellenza che sono attive in un settore, quello della frutta e degli ortaggi, che ricordo sviluppa un volume da fare di 12 miliardi di euro, di cui 5 miliardi di euro provenienti dall'export. L'obiettivo è delineare le strategie vincenti per far fronte alla concorrenza dei mercati esteri. L'agricoltura 4.0 è solo uno dei tanti aspetti che riguardano la progettualità per il futuro di queste aziende ortofrutticole, ma i loro investimenti si devono orientare e si orientano sia sulla filiera agricola, sia sulla parte della lavorazione industriale, nel senso della conservazione e poi nell'ultimo anello della filiera che è quello che riguarda la distribuzione finale, ossia la distribuzione dei prodotti alle piattaforme dei supermercati che richiedono tempi sempre più veloci e certificazioni sempre maggiori per poter offrire un prodotto che sia apprezzato e che fidelizzi il consumatore finale.